Fatica, non c'ho più l'età di una volta ragazzi miei, faccio un passo e ok va benissimo così. Detto questo, nuovo episodio di bombe di calcio mercato del Gabon, ce ne sono veramente di ogni, tifosi del Milan, dell'Inter, della Juventus, del Napoli, della Roma, della Lazio, dell'Atalanta, della Fiorentina, dei nonni e dei zie. 30 secondi, come arrivo almeno a 10-15 minuti di video? Vabbè, allora, facciamo così, una marea di mi piace su questo video, se volete di nuovo il buon Fabio in un prossimo contenuto. Se su questo contenuto entro oggi arriveranno almeno 2.500 mi piace, domani stesso, subito un nuovo episodio con lui, altrimenti lo sapete, è a cadenza all'incirca settimanale. Comunque lasciami mi piace non costa niente, fate voi. Iscrivetevi, attivate la campanella, cioè sembra, il bello è che so allenato, il bello è che vado a correre 4-5 volte a settimana, che mi faccio 35-40 minuti di corsa, ok. Iscrivetevi, attivate la campanella per restare sempre aggiornati quando pubblico qualcosa, due canali di calcio, un canale extra calcio, tutto in infobox o durante il video i canali compariranno qui. Allora, indovina, indovinello dell'altro giorno, c'era anche il buon Fabio. Nei commenti avete indovinato in tantissimi. Quindi, dovesse partire Vlaovic e sembra proprio che la Juventus, perlomeno ad oggi, sia intenzionata a rinunciare a lui per tanti e tanti soldi, potrebbe arrivare alla Juventus Scamacca. Ragazzi, era già un obiettivo in passato, poi Scamacca ovviamente è andato al West Ham, però si potrebbe riaprire questa pista. Scamacca sarebbe ben intenzionato a tornare in Italia. Scusate, ma ho la voce un po' particolare. E questa ve l'ho detta. Mo' ve devo fare un nuovo indovina, indovinello. E a sto giro ve lo faccio sulla Roma. È un indovina, indovinello molto, molto particolare. Aspettate che mo' soppetto, sa? Oh, aspetta, oh questo non è, questo non è, questo non è. Eccolo qua. Allora, provate ad indovinare qui sotto nei commenti, lascio cuore a chi indovina la soluzione nel prossimo contenuto. La Roma sta puntando, come ve lo dico, perché poi capite, un calciatore del Benfica in scadenza, un calciatore molto interessante, che gioca sulla fascia. Ecco, mettiamola così, non ve dico se è alto, medio, basso, di chi sto parlando. Calciatore molto interessante. Scrivetelo qui sotto nei commenti, non ve dico la nazionalità, perché sennò lo indovinate proprio a occhi chiusi. Comunque, scadenza di contratto. Lo ripeto. E adesso veniamo al dunque. Paratici, per il momento, temporaneamente, ha deciso di lasciare il Tottenham. Trenta mesi di inibizione per lui, si sta aspettando i corsi, una cosa in altra, per capire effettivamente quel che accadrà. Io credo che per quanto ci possa essere ricorso, comunque, un bel po' di tempo di inibizione ce l'avrà. Di conseguenza, insomma, non si mette bene per lui, ecco, dal punto di vista lavorativo, o almeno per quel che riguarda il mondo del calcio. C'è fiducia, forte fiducia, lo ha detto Marotta, ripetuto, moltiplicato per tre. Fiducia, 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 per il rinnovo di bastoni con l'Inter. Anche se qualcuno continua a pensare, visti, no, gli attuali periodi dove rinnovare calciatori importanti, anche giovani, sta diventando sempre più difficile. Insomma, per quello che ha detto Marotta dovrebbe essere abbastanza abbordabile, no, questo rinnovo di bastoni. Non so se alla fine così sarà, ecco, mettiamola così. Io metto sempre le mani avanti, non voglio darvi false speranze, perché never say never. Si parla comunque di un rinnovo a cifre importanti, perché bastoni sta dimostrando grandi cose. Staremo a vedere se poi così sarà. Ma insomma, un tu vorrebbe andare al Bayern Monaco. Questa ve la lancio proprio così, completamente a caso. Più che altro, quando l'ho letta io completamente a caso, ho detto, vabbè, ma al Bayern Monaco, visto il ruolo di Mount, visto come sono forniti là davanti, gli serve uno come Mount? Può essere pure, perché il Bayern Monaco queste scelte a volte le fa, piglia e butta nella mischia. Giocatore buono, perché lo sto a di che è scarso, ovviamente, Mount è un grande giocatore. Staremo a vedere quello che succederà. Questa va, dico tra poco, il nuovo allenatore del Tottenham potrebbe diventare Company. Company, il carciatore, il belga, il difensore, una nonna, una zia, una cosa in altra. Adesso c'è ad interim, se non mi ricordo male, il secondo di Antonio Conte, il vice allenatore. Dicono che lo portano fino alla fine della stagione e che poi dalla prossima ci sarà Company. Però sono usciti altri nomi, è uscito Nagelsmann, sono usciti anche ancora altri nomi di altri allenatori. Magari ne parliamo nel prossimo contenuto. Chi lo sa, alla fine, chi sarà l'allenatore del Tottenham? Mi candido, se vi serve uno che vi fa perdere tutte le partite, io sono disponibilissimo. Detto questo, allora, della Lazio c'è un paio, non ve le voglio dire entrambe. Ve ne dico solamente una e vi dico che sta puntando un centrocampista del Bournemouth, classe 96, col contratto in scadenza nel 2024. Valore di mercato 18-20 milioni di euro, ma proprio perché va in scadenza nel 2024 e a giugno proveranno l'affondo, potrebbero strapparlo a cifre più basse. A metà? Ipotizzo. E stiamo parlando di Billing, quindi, attenzione, è un giocatore molto molto interessante come profilo. Poi conosciamo Tare solitamente con questi profili a zecca abbastanza spesso, quindi staremo a vedere se alla fine arriverà un calciatore di questo tipo. Onana, sempre più nelle mire del Chelsea, che, ricordiamolo, da quello che ho capito, rivoluzionerà un po', no? Quello che è il pacchetto dei portieri, quindi ne vuole un altro e, insomma, hanno puntato fortemente su Onana. L'Inter potrebbe virare su Vicario. Vicario lo conosciamo, è un giocatore molto interessante, ma vogliono 40 milioni per Onana. Quindi io penso che il Chelsea sia disposto a pagare quella cifra. Ve lo dico proprio onestamente, perché poi l'Inter l'ha preso a parametro zero, non so se vi ricordate la storia di Onana, molto molto particolare. Però, se gli danno 40 milioni per Onana, accettano, lo vendono. Onana, secondo me, ci avrebbe tutte le intenzioni di andare a giocare al Chelsea e io Vicario la vedo come un'ottima alternativa, onestamente parlando. Milan ve lo dico tra poco, quest'altra della Lazio ve la dico nel prossimo contenuto. E questa ve la sparo così. La Roma vuole Quadrato. Quadrato che va in scadenza con la Juventus. Ad oggi, Quadrato non ha ancora rinnovato con la Juventus. Sembra che la Juventus, per il futuro, stia iniziando a puntare ad altro. Vediamo anche che ultimamente Quadrato non è che è titolare fisso inamovibile. Non so esattamente quale tipo di acciacco fisico possa avere. Me lo possono confermare i tifosi della Juventus. Non mi sembra che ci abbia tutto sto granché e dovesse andare in scadenza. Quadrato sarebbe ben disposto, in realtà, da quello che ho capito io, soprattutto qualora la Roma dovesse giocare la Champions, di sposare la causa giallorossa. Poi dipende anche da tutte le altre offerte. Che potrebbe avere un profilo di questo tipo, ovviamente. Grattamo se toccamo ferro e via dicendo. Non dovesse la Roma, la Roma prende la Champions, dovesse avere offerte da squadre che giocano la Champions. Io ipotizzo che Quadrato potrebbe preferire quello, no? E anche questa ve l'ho detta. Questa è grossissima sull'Inter, ragazzi. Ma proprio grossa, 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 grossa. E non ve la dico, ve la dico nel prossimo contenuto. Guardate quanto so cattivo. Ma vi dico che l'Inter sta puntando un difensore centrale, ovviamente per sostituire Skriniar per la prossima stagione. Ne sono usciti di ogni. Nomi a sinistra, a destra, dal centro, da sotto. Apri la tazza del cesto, escono nomi dell'Inter. Chiudi la tazza del cesto, entrano nomi dell'Inter. Apri la porta di casa. E' uscito adesso, in realtà è già da qualche settimana sto nome, però è passato molto sotto traccia, Inigo Martinez dell'Atletic Bilbao. Fate attenzione, profilo molto, molto interessante anche lui, quindi non lo so se alla fine l'Inter punterà fortemente su di lui o se prenderà qualcos'altro. Tra l'altro leggevo che Acerbi dice non so se resterò all'Inter, non dipende da me. Forse l'Inter vuole un po' rivoluzionare tutto il pacchetto difensivo. Dici, visto che parte Skriniar, levamo tutti e cerchiamo proprio di ripartire, non dico da zero, ma quasi. Vedremo. Questa sul Napoli è grossissima, ragazzi. Questa sul Napoli è veramente grossa. Il Paris Saint-Germain ve lo dico tra qualche minuto perché è veramente grossa. Però sul Napoli vi posso dire questa, no? Si stava parlando di un adeguamento di contratto di Kvara, ne hanno dette veramente tutti i colori, addirittura sono uscite le cifre, quello che percepisce attualmente, quello che andrebbe a percepire con questo ritocco di ingaggio. De Laurentiis è stato intervistato, l'altro giorno usciva non so da dove, vabbè gli hanno fatto un po' di domande e lui ha risposto. Ma c'ha cinque anni di contratto, ma è possibile che dovete sempre stare a pensare? Noi no, ma probabilmente il calciatore, visto le proposte che potrebbe avere, visto quello che percepisce attualmente, sì, quindi si presume che, insomma, se lo vuoi trattenere, per quanto c'ha un contratto di cinque anni, è meno di un anno che sta a Napoli, però dovresti cominciare a pensare. No, ha detto, c'ha cinque anni di contratto, non rompete le palle perché non se fa una lira e non se ne parla. Eh, ragazzi, allora, Blaovic che potrebbe partire, potrebbe arrivare Scamacca, non solo, Osimene che potrebbe partire, dipende dalle offerte importanti che potrebbero arrivare, e si sta puntando, sia la Juventus, sia, mi sto in cartà, sto facendo un discorso molto molto particolare, c'è anche l'interesse dell'Arsenal, se proprio lo volete sapere sul calciatore, sto parlando di Oilund, che potrebbe essere la scelta numero uno per tanti club, qualora i calciatori dovessero partire. Ovviamente, ricordiamolo, per la Juventus si è parlato anche e soprattutto di Scamacca, ma si continua a minorare, a monitorare anche Oilund, giocatore veramente fortissimo, lo sta dimostrando, non solo con l'Atalanta, ma anche con la sua nazionale, no? Sta a segna a gol, veramente a grappoli. E dico questa prima. Nzola potrebbe diventare un nuovo calciatore del Torino. Sembra che il Torino abbia anticipato tutta la concorrenza e penso là la concorrenza non solo in Serie A, ma anche all'estero è abbastanza importante, no? E sembra che abbiano convinto il calciatore. In realtà, Nzola fino al 2024 ha un contratto in essere con lo Spezia, ma sembra che lui non sia intenzionato a rinnovare, a meno di stravolgimenti particolari, se dovesse salvare lo Spezia, dovesse, decide di continuare a sposare la causa, no? Allora sarebbe un altro conto, però sembra che lui voglia provare una nuova esperienza. Sembra che sia stato convinto proprio da Juric. Questo è quello che sta trapelando in questo momento. Poi prendetela sempre con le dovute pinze perché le vie del calciomercato sono infinite e le cose anche, no? All'interno dello spogliatoio, all'interno della testa dei calciatori, all'interno della testa degli agenti cambiano nel giro di un attimo. Lo abbiamo visto in tante situazioni, no? Antonio Cazzaro, Docet. Messi potrebbe tornare al Barcellona e non è una fake news, non è una fake news del primo di aprile, ragazzi. È un qualcosa di fattibile, lo ha detto Fabrizio Romano, ma lo ha confermato anche il vicepresidente del Barcellona. Ha detto col Paris Saint-Germain non ha ancora rinnovato, noi stiamo facendo del tutto per provare a riportarlo a casa. Non ha le cifre che percepisce al Paris Saint-Germain, ma ovviamente sarebbe in parametro zero un'altra volta che si è sposta di qua e di là e dovrebbe accettare cifre nettamente più basse. Ma ho parlato in un contenuto dedicato sul primo canale col buon Fabio per un Messi che, ragazzi, per il Barcellona farebbe veramente di tutto. Ma vi sembra una cosa poi così improbabile? Staremo a vedere. Comunque, io la bomba ve l'ho lanciata. E detto questo, parliamo rapidamente di Milano e poi andiamo alla bomba vera e propria che riguarda il Napoli e che lascia tutti a bocca aperta. Il Milan sta puntando fortemente a Senzio in scadenza con il Real Madrid. Non rinnoverà con il Real Madrid quindi sarebbe un parametro zero. L'unico problema è l'ingaggio. L'ingaggio è abbastanza pesante. Bisogna capire quante squadre sono interessate ad Asensio ma soprattutto qual è la cifra disposta ad offrirgli. Poi dipende sempre da lui ovviamente. Ricordiamo che il Milan è comunque uno dei club più titolati al mondo insieme proprio a Real Madrid. Se a Real Madrid non resta potrebbe decidere sotto quel punto di vista di andare in un club che ha fatto la storia in Europa e anche in Italia vediamo che offerte ci saranno. Attualmente non mi risulta non risultano in realtà i giornalisti sportivi esperti del mondo del calcio e via dicendo che ci siano tutte queste offerte per Asensio quindi sarà anche un po' a ribasso l'ingaggio del calciatore alla fine la scelta aspetta solamente a lui comunque Asensio Milan nome caldo forte come calciatore perché l'ho sempre reputato veramente forte potrebbe secondo me alzare il livello comunque a prescindere del Milano già solo con l'esperienza che ha in una squadra come il Real Madrid stanno a spalla a casa stanno a spalla vabbè non ci fate caso viene a ruspo qua sotto ma spalla tutto allora veniamo al dunque perché questa è pesantissima si parla sempre di Kvara e di Ozyman no? oggi puntiamo i riflettori su Ozyman per l'ennesima volta ma con un'offerta che sembra sia già arrivata dell'Aurentis che deve decidere ipoteticamente ed eventualmente Paris Saint Germain è furbo perché dice diamogli dei calciatori su cui il Napoli nostri offriamogli delle contropartite su cui il Napoli in passato ha provato a puntare no? e che non sono poi alla fine riusciti ad arrivare a Napoli e vediamo che cosa succede sono degli esuberi per il Paris Saint Germain uno è in prestito alla Juventus attualmente ma tornerà sicuramente al mittente e uno attualmente al Galatasaray avete capito? cioè da Ozyman ti diamo cash e in più ti diamo Icardi cercato in passato e Paredes Paredes cercato in passato si devono rilanciare giocatori come Icardi e Paredes Paredes ditelo come volete e poi bisogna capire economicamente quale sarebbe l'esborso economico del Paris Saint Germain conosciamo De Laurenti è uno che non svende i suoi calciatori deve arrivare in offerta veramente rinunciabile però io va a butto là dovessero offrì 100 milioni di euro cash più Icardi e Paredes secondo me De Laurenti potrebbe vacillare potrebbe decidere ipoteticamente di accettare è un mio parere è capace pure che dice manco per 500 noi voglio sodduscarti ormai Icardi e Paredes non mi piacciono se devono rilanciare ma chi non si può mai sapere però intanto questo sta succedendo e questo vi e questo vi riporto Inter Juventus Inter queste ve le dico la prossima volta ce n'è anche una pesante della Lazio un'altra della Roma io vi ringrazio per la visione e niente semplicemente vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video ciao rica Grazie a tutti